Devo fare i complimenti a tutti, siete riusciti a portare in porto questo campionato, un campionato difficilissimo, c'è stato vento fortissimo, vento forte, vento leggero, corrente, insomma tutte le condizioni della marineria, non è mancato niente. Complimenti ai vincitori, non so se posso farlo, complimenti ai circoli palermitani che hanno portato tutti e quattro i titoli a casa. Desidero ancora una volta ringraziare tutti voi per essere venuti così numerosi, sappiate che Palermo vi aspetta sempre e buon vento a tutti. Grazie. 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 Grazie.